Musica Scontro tra auto e moto sulla statale a Ponte Sasso di Fano ferito in modo grave il centauro trasportato al torrette in neliambulanza e il soccorso atterrato anche a Pesaro per un incidente tra auto, moto e monopattino due feriti di cui uno in gravi condizioni A Fano TV parla l'avvocato dello studente ricoverato con un TSO in psichiatria azioni illegittime impugnerò il provvedimento davanti al tribunale di Pesaro Duro attacco di Vittorio Sgarbi al sindaco di Fano Massimo Seri lo studente coraggioso e isolato forse dalla parte del torto ma doveva essere rispettato e non mandato in manicomio solidarietà al primo cittadino espressa dal presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli avrei preso la sua stessa decisione Non si placa la protesta sui parcheggi a pagamento a Lido e alla Sassonia scendere in campo anche imprenditori e commercianti di Via Nazario Sauro che chiedono permessi per chi lavora e la messa in sicurezza della curva a guidarli l'ex assessore Alberto Santorelli Anche Fano si freggia della bandiera blu soddisfatto l'assessore al turismo Etienne Lucarelli il vestillo testimonia la qualità dei servizi e delle strutture della nostra città Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia lo avete sentito, continua a far discutere il caso del 18enne del Battisti ricoverato in psichiatria dopo aver protestato contro l'uso obbligatorio della mascherina a scuola Oggi Angelica Panzeri ha intervistato il suo avvocato Isabella Giampaoli che ha detto il TSO è stato eseguito con brutalità e violenza verificheremo le responsabilità penali di tutte le persone coinvolte La vicenda dello studente 18enne del Polo 3 sottoposto mercoledì scorso a trattamento sanitario obbligatorio dopo aver rifiutato l'uso della mascherina diventa un caso nazionale Il ragazzo ricoverato nel reparto di psichiatria di Pesaro è stato dimesso domenica scorsa in anticipo rispetto ai sette giorni di legge del TSO su iniziativa dei medici del reparto che hanno valutato la mancata delle condizioni per trattenerlo Un caso su cui vuole far chiarezza anche l'avvocato di Pesaro Isabella Giampaoli che ha assunto su mandato diretto la tutela del giovane con il consenso dei genitori Avvocato Giampaoli, la vicenda del ragazzo sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio è diventato ormai un caso nazionale lei ha detto che è stata gestita questa vicenda in maniera scandalosa andrò fino in fondo Che cosa intendeva dire? Intendo dire che effettuare un TSO con una brutalità e una violenza come quello che è stato eseguito a Fano soprattutto nei confronti di un ragazzo di 18 anni quindi così giovane e che non aveva nessuna motivazione ritengo che sia un fatto gravissimo e per fortuna ha avuto l'attenzione nazionale Il provvedimento di TSO ovviamente va impugnato davanti al Tribunale di Pesaro e chiederò l'annullamento e inoltre andrò anche avanti con le azioni penali perché ci sono secondo me delle responsabilità penali in questa vicenda notevoli Quindi lei farà un'esposta alla procura come dichiarato sulla stampa? Assolutamente sì Ha avuto modo in questi giorni di parlare con il ragazzo e se sì come l'ha trovato? Sì, ho avuto modo di parlare con il ragazzo è tranquillo e felice di essere finalmente a casa è sereno però ovviamente è molto provato perché è una cosa che lascerà una ferita indelebile nella sua vita Che cosa le hanno detto i genitori dello studente? Sono rimasti letteralmente sconvolti perché una cosa del genere si sarebbero aspettati tutto tranne che è un evento così brutale che hanno vissuto poi personalmente perché al pronto soccorso sono arrivati quasi subito quindi hanno seguito tutta la vicenda personalmente Lei sulla stampa locale ha dichiarato che andrà avanti contro tutti che cosa intendeva dire con queste parole? Per verificare le responsabilità penali di tutte le persone che sono state coinvolte in questa vicenda orribile E su questa vicenda un duro attacco al sindaco di Fano Massimo Seri è arrivato da Vittorio Sgarbi Solidarietà invece è stata espressa dalla presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli che ha dichiarato avrei preso la stessa decisione Ondata di proteste da tutta Italia dopo ricovero in psichiatria ha imposto lo studente Fanese che si era incatenato per protesta al banco per riaffermare il suo diritto a non mettere la mascherina dopo un primo video condiviso sui social la scorsa settimana il deputato e critico d'arte Vittorio Sgarbi è tornato sulla vicenda Nei giorni scorsi aveva attaccato la dirigente dell'istituto per il fatto che a scuola erano arrivati il 118 e le forze dell'ordine ieri invece Sgarbi ha rivolto un duro attacco principalmente al sindaco di Fano Massimo Seria approvando le dichiarazioni rilasciate sul caso dal noto psichiatra Alessandro Meluzzi Un sindaco miope cieco che io conosco tra l'altro bene socialista quindi con una vicenda che nel suo passato è piena di ferite pensando che si è toccato al suo partito il quale dimenticando tutto elogia Fedez elogia Fedez per conformismo e manda in ospedale psichiatrico cioè in manicomio un ragazzo di 18 anni le considerazioni di Meluzzi sono perfettamente condivisibili si tratta a mio giudizio di un gravissimo abuso che penso presenti anche in rilievi penali è l'abuso della preside del professore è l'abuso del sindaco è l'abuso della funzione del potere per reprimere chi vuole manifestare una posizione anche discutibile attraverso il TSO siamo nell'ambito dell'uso politico sociologico ideologico e comportamentale del TSO continua a leggere Sgarbi che il nostro ordinamento prevede per casi molto più gravi ovvero situazioni che potrebbero mettere a rischio la vita del paziente o quella degli altri mi auguro che qualcuno ne risponda aveva dichiarato miluzzi e mi stupisco del sindaco di Fano che appena una settimana fa faceva il difensore di Fedez denunciando il tentativo di censura ai suoi danni e poi ha disposto il ricovero coatto di questo ragazzo e infine mi chiedo come possa un giudice dare il proprio assenso ad una cosa del genere per un ragazzo ai limiti della minore età aveva proseguito lo psichiatra si tratta di un danno gravissimo forse anche irreparabile a mio giudizio ci sono gli estremi per ricorrere sia all'azione penale che a quella civile con annessa richiesta di risarcimento dei danni subiti sin da ora mi rendo disponibile a sostenere la famiglia di questo ragazzo se lo vorrà offrendo la mia consulenza di medico legale di consulente psichiatrico poi invoca il ministero dell'istruzione per un'ispezione in quella scuola e anche perché da lì si muova la magistratura ma tutto questo al di là di qualunque giudizio si possa dare di queste posizioni presupponeva un dialogo e un tentativo anche di valutazione dei fatti del professore o della preside che invece hanno visto questo ragazzo come non solo degno ad essere ricoverato in un ospedale psichiatrico ma plagiato plagiato da qualcuno che gli ha fatto capire che la Costituzione prevede libertà che sono state da questi governi totalmente soffocate questa è la verità caro sindaco di farlo e abiti da parte mia tutta la delusione di chi ti ha frequentato ma non ti riconosce vergognati stare dalla parte di Fedez stare dalla parte del più forte e metterti contro un povero ragazzo coraggioso isolato forse anche dalla parte del torto ma tale da essere rispettato non da essere maltrattato e mandato in manicomio vergognati e al momento Massimo Seri attende di capire l'evolversi della vicenda e non appena saranno delineati tutti gli aspetti rilascerà dichiarazioni garantendo la realtà dei fatti intanto solidarietà al sindaco è stata espressa da Valeria Mancinelli presidente Anci Marche ancora una volta dichiarato un sindaco si trova nella posizione di dover affrontare delle conseguenze per aver addempiuto al proprio dovere ritengo che Seri ha proseguito Mancinelli di fronte a due pareri medici concordi e non avendo competenze personali specifiche non poteva che procedere come ha fatto quindi applicando la legge e disponendo il TSO personalmente con la situazione data se il fatto fosse avvenuto ad Ancona città di cui sono sindaco avrei fatto esattamente quello che ha fatto il collega non siamo eroi e nessuno di noi aspira ad esserlo ha insistito alla presidente di Anci Marche siamo soliti metterci la faccia di fronte ai cittadini e all'opinione pubblica Mancinelli poi ha concluso il suo intervento con una domanda cosa sarebbe successo se in presenza della prescrizione del TSO controfirmata il sindaco se si fosse rifiutato sarebbe stato accusato di abuso di potere la cronaca un centauro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato oggi alle ore 13 lungo la statale Adriatica Ponte Sasso di Fano per causa ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale il motociclista un anconetano di 54 anni si è scontrato all'altezza del distributore di carburante con una Fiat 600 condotta da una giovane 22 anni residente a Marotta sul posto è atterrata l'eleambulanza che ha trasportato l'uomo all'ospedale regionale di Torrette di Ancona mentre la ragazza ferita in modo lieve è stata portata dal 118 al Santa Croce di Fano in questo punto ci hanno scritto i telespettatori si verificano spesso gli incidenti purtroppo la statale è trascurata l'erba è alta un metro e mezzo e negli incroci viene impedita la visibilità inoltre gli attraversamenti pedonali sono inadeguati gli interventi del comune ha precisato poi un segnalatore si concentrano tutti sul lungomare ma noi qui ci viviamo tutto l'anno siamo abbandonati e purtroppo ci aspettiamo brutte notizie come quella di oggi e un altro grave incidente è accaduto poco dopo intorno alle 13 e 30 nel quartiere di storia a Pesaro nel sinistro sono rimasti coinvolti un'auto una moto e un monopattino elettrico ad avere la peggio è stato anche in questo caso il centauro che è stato trasportato al Torrette ferito ma in modo lieve il ragazzo a bordo del monopattino che è finito all'ospedale San Salvatore la dinamica è al vaglio della polizia locale e adesso gli aggiornamenti sul coronavirus nelle ultime 24 ore sono morte 4 persone nelle Marche tra cui un fanese di 88 anni inoltre nell'ultima giornata sono stati rilevati 151 contagi di cui 51 in provincia di Pesaro Urbino è calato al 6,7% il rapporto tra positivi e tamponi testati un altro calo importante è stato registrato negli ospedali delle Marche dove ci sono 23 ricoveri meno rispetto a ieri i pazienti in terapia intensiva scendono a 53 mentre quelli in semi intensiva a 103 a Sasonia di Fano continua la protesta delle attività economiche per i parcheggi che dal primo giugno diventeranno a pagamento a scendere in campo ora sono gli operatori di Via Nazario Sauro che chiedono la sosta gratuita ma anche la messa in sicurezza della curva troppo pericolosa 100 lavoratori non sanno dove mettere l'auto i parcheggi a pagamento con la pandemia in atto metteranno in difficoltà tutte le attività economiche non si placa la polemica dei commercianti e degli operatori economici per la rivoluzione delle soste a Lido e alla Sasonia dal primo giugno infatti 311 parcheggi diventeranno a pagamento fino al 15 settembre una scelta fatta dal comune di Fano che non piace e che continua ad essere criticata anche dai titolari e dai dipendenti delle attività che si affacciano su Via Nazario Sauro a guidarli Alberto Santorelli l'ex assessore oggi consulente assicurativo che all'ufficio di fronte alla Capitaneria di Porto lamenta innanzitutto il mancato confronto promesso già dallo scorso anno da Etel Lucarelli e dal sindaco Massimo Seri hanno messo questi parcheggi a modi blitz l'hanno fatto prima di mettere in sicurezza la zona quindi la stessa curva che è molto pericolosa con anche i tavoli adesso dei locali diventa veramente urgente metterla in sicurezza e un lavoratore non può spendere 10-15 euro al giorno per parcheggiare la propria auto non c'è comprensione minima del fatto che facciamo lavori dove abbiamo bisogno di prendere l'auto 3-4-5 volte al giorno e di fatto con questo provvedimento l'amministrazione considera lavoratori di serie A lavoratori di serie B contro residenti contro attività economiche e non ci facciano credere prosegue Santorelli che il provvedimento sia a favore dell'ambiente perché in tal caso avrebbero potuto predisporre almeno delle colonnine elettriche sul lungomare è solo un provvedimento per fare cassa e quindi fare cassa sulla spalla dei lavoratori che già pagano le tasse per pagare tutto l'apparato pubblico che in questo caso invece ai parcheggi riservati come ad esempio la guare costiera o come i dipendenti pubblici del comune che hanno tutti i parcheggi intorno ad esempio al parcheggio Van Vitelli e la Sassonia tutti liberi quindi potevano spalmarli meglio in tutta la zona mare non l'hanno fatto e ovviamente creano dei disagi a tutti i lavoratori insieme a Santorelli erano presenti anche titolari di agenzie e negozi quello che chiedono a gran voce di poter avere la sosta gratuita o quantomeno con delle agevolazioni è assurdo hanno detto che si debba spendere un euro e venti di ticket per acquistare un gelato da due euro e venti i residenti che i lavoratori di questa zona qua devono pagare comunque già un credo sia sui 140 euro ogni tre anni per poter posteggiare qui di fronte alle case e alle attività quindi un'ulteriore spesa anche nei parcheggi a pagamento sarebbe una cosa eccessiva diceva che questa già è una zona penalizzata e questi sarebbero ulteriori costi onerosi per voi e per i clienti esatto anche per la clientela che ci deve raggiungere insomma non siamo su un posto di passaggio se ci aggiungiamo la difficoltà dei parcheggi anche perché la nostra attività comporta un via vai continuo e non riusciremo a gestirla andando a parcheggiare lontano e meno ancora riusciremo a gestirla pagando dei parcheggi blu perché comincerebbe essere una spesa un po' importante quindi chiediamo di trovare una soluzione adesso io penso che sia da valutare insieme a chi si occupa di queste cose per poter renderci più agevole il lavoro lo spostamento i clienti proprio piacevole stare qui però lavorativamente parlando delle difficoltà ci sono manifestazione di protesta questa mattina a Fabriano in provincia di Ancona organizzata dal coordinamento sindacale di Elica presenti con bandiere delle varie sigle sindacali oltre 300 operai della multinazionale leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti che ha annunciato un piano strategico che prevede esuberi delocalizzazioni alla chiusura del sito produttivo di Cerreto Desi accanto a loro altre tutte blu del distretto economico di Fabriano scendono scandendo parole come vergogna e lavoro il corteo è partito dal piazzale di Via Dante per arrivare ai cancelli della sede di Elica le richieste erano racchiuse in uno striscione posizionato all'inizio del corteo con su scritto basta delocalizzazioni non chiudete Fabriano più Italia meno Polonia vicinanza di solidarietà ai lavoratori è stata espressa dall'assessore regionale Stefano Guzzi che ha partecipato all'iniziativa massima attenzione e preoccupazione ha dichiarato abbiamo aperto tutti i tavoli istituzionali anche a livello nazionale il presidente Acquaroli incontrerà in regione i sindacati per cercare una soluzione e adesso cambiamo argomento a Pesaro a Pesaro proseguono i tamponi nelle scuole si è concluso lo screening agli studenti delle medie su circa mille test effettuati nessuno è risultato positivo questo è l'unico modo per garantire una scuola in sicurezza ricordato l'assessore Mila della Dora si tratta di un'operazione ormai rodata che il comune ha organizzato per la quarta volta il monitoraggio proseguirà domani e giovedì per poi concludersi il 18 maggio nelle scuole superiori torniamo a Fano dove è stata aperta una seconda struttura di famiglia nova dedicata a persone autosufficienti dopo un periodo lungo e difficile con emergenze da affrontare a causa della pandemia alla Casa Albergo per Anziani Famiglia Nova è tornata la serenità ed anzi si guarda al futuro con nuovi progetti e iniziative intanto dal 12 aprile scorso è stata attivata una nuova struttura di fronte all'attuale di Via Malvezzi nel centro storico di Fano allora finalmente una bella storia relativa a Famiglia Nova che si è rialzata dopo un difficilissimo inizio di 2020 e ora aumenta i servizi e li va ad individualizzare per tutti i suoi residenti sono due strutture distinte ma di un'unica gestione quindi si può parlare veramente di un ampliamento di un incremento delle attività che Famiglia Nova propone ai suoi propri residenti e anche un'individualizzazione delle cure che vengono offerte a chi sarà dedicata? questa nuova struttura con il nome prenderà il nome di Famiglia Nova 2 ma sarà dedicata a tutte le persone con autosufficienza o parzialmente autosufficienti e servirà proprio perché ha una spendibilità che promuove il mantenimento delle autonomie ed è finalizzata e mirata al mantenimento e quindi al riuscire a fornire un servizio sempre più preciso per delle persone e calzante per delle persone che hanno delle autosufficienze la prima struttura per soggetti non autosufficienti può ospitare fino a 65 posti letto mentre la nuova 20 posti in totale ad oggi inoltre sono circa 60 gli operatori che ruotano nei due edifici tra servizi alberghieri sociosanitari e infermieristici decine poi sono le attività che vengono svolte ogni giorno in queste case albergo nelle quali sono state predisposte anche delle aree specifiche per eventuali isolamenti di persone positive al covid o in attesa di accertamenti gli anziani sono stati vaccinati? gli anziani sono stati tutti vaccinati e provvederemo ad accogliere nuove persone vaccinate o comunque ad occuparci della vaccinazione di ognuno il personale è stato tutto vaccinato e attendiamo delle disposizioni a breve per poter dare maggiori possibilità anche da un punto di vista di incontri con i propri familiari ieri sono state assegnate le bandiere blu un vestillo importante che anche quest'anno sventolerà sulle spiagge fanesi servizio di Filippo Pucci sono 16 le bandiere blu che quest'anno sventoleranno sulla regione Marche da Gabicce Mare fino a San Benedetto tra queste rientra per il 17esimo anno consecutivo anche Fano che grazie a questo riconoscimento ottenuto dalla FE Fondazione per l'Educazione Ambientale certifica la qualità dei servizi delle strutture all'interno della città e dell'ambiente negli anni l'amministrazione ha investito in diversi progetti strutturali per migliorare la qualità della costa e del turismo balneare come la vasca di prima pioggia dell'Arzilla e alle previsioni di bonifica dell'area che va da Torrette a Ponte Sasso migliorando così la qualità delle acque di quel tratto grande soddisfazione da parte dell'assessore Etienne Lucarelli un vestillo per noi molto importante perché è un attrattore per tutto quel turismo balneare di cui la città ha bisogno e che in qualche modo in tutta l'estate affolla le nostre spiagge da anni lavoriamo per qualificare appunto la qualità delle acque con interventi strutturali molto importanti sono finiti da un anno i lavori appunto degli scolmatori a Sassonia che hanno dato la possibilità di qualificare tutta quest'area stiamo veramente intervenendo strutturalmente per far sì che tutto il nostro litorale tutta la nostra costa sia una costa che possa mostrare qualità nella balneazione qualità nei servizi e che quindi il turista che venga nella nostra città possa godere a pieno di questa sicurezza della bellezza delle nostre spiagge e della bellezza del nostro territorio quindi un vestillo che sta a significare molto e sul quale insieme ai nostri uffici devo dire un vestillo che necessita di un lavoro lungo un anno con una serie di questionari e con una serie di dati anche delle acque che dobbiamo proprio a mandare alla fe a Roma quindi ringrazio gli uffici ringrazio tutti coloro che ci lavorano ringrazio il settore ambiente per il grande lavoro perché è un vestillo per noi molto importante per la nostra città e la bandiera blu è stata confermata anche a Pesore e a Mondolfo questo prestigioso riconoscimento ha commentato il sindaco Nicola Barbieri conferma la qualità della nostra offerta turistica e valorizza le politiche dell'amministrazione comunale verso l'ambiente in questi anni abbiamo lavorato molto sulla riqualificazione del lungomare sulla mobilità e sulla difesa della costa la bandiera blu ha concluso il primo cittadino ci sprona a continuare nei percorsi già avviati ma anche a cercare di fare sempre meglio per i cittadini e per i turisti che scelgono la nostra città come meta per le vacanze questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale tra poco una nuova puntata di Guarda Chi C'è condotta da Paolo Notari l'ospite sarà Ciro Mariani progettista capo di Expo 2015 e promotore del nuovo progetto Pergola Città delle Tinte grazie per la vostra attenzione l'informazione torna domani mattina alle 7 con il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri arrivederci arrivederci a